E che buon salve a tutti! Siamo qui anche in questo nuovo video, la seconda parte di Counter Strike di questa miniserie, ecco, con De Leonforo e Verzaker. Se non avete visto la prima parte vi invito a visionarla, ci sarà il link nella descrizione del video così almeno potete capire il senso, ecco, della seconda parte. Quindi vado alle ciance, prima vedremo qualche pezzo della parte precedente, se non volete vedere il video della prima parte, ma vi consiglio di vederlo perché è una meraviglia, e dopo la seconda parte. Buona visione! Ma se... Io tenevo la colonna che mi bloccava. Guardalo, 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 tutto pieno come attacco. Ah, non ci vedo niente! Ok, mi... Ritirata! No! Bellissimo! Ah, ti ho fatto troppi danni, no? Mi chiese un video di puttana, tizio. No, ma non c'è la colonna, senti che ci sono le notifiche. No, ma manco l'assist, l'ho pure colpito. No, l'ho preso, me la fonino, taci. Ma sto da solo. Ma tu guarda lo schermo come minimo. Cos'è? Perché mi guardi malissimo. Bellissimo. Ma vediamocene con le due de' puttana. Attenzione, c'è Boppi. Non è vero! Che... Dai! Bellafonino is by Apple. Accendiamo la luce di Cristo. Io! 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 Non c'è nessuno. Ragazzi, stanno in a, ci hanno incurato. E gioca con la, dico più, non sa usare. Oh, eh, tutti in a sono. Ma non c'è nessuno. Short, 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 short. C'ho 4 HP, aiuto. Ma niente, fai. Non muore? Oh! Non muore mai! Vado a chiamare la polizia. Ah! Ma perché? Ma stava dormendo qua. Ma... No! Ma me la fonino! Siamo giocando un troppo me la fonino. E Dedalus non si sa come ha avuto l'illuminazione. Beh, 35 kill me la fonino. Tua madre, troppo! Ma tutti... Eh, dove andate? Ma che ne so io? Ma venite con me! Serte di merda! Oh, bambini! No, Dedalus! Oddio! Lagga! Lagga! No! Stava laggando! Ma cosa stai sperando? Il muro stai sperando. No, l'ho colpito. Ma è la fonino! L'ho colpito! Fermo! Non picca! Fermo! Fermo! Oh, per... Iiii! Sì! Ma non... Ah, sprui gli occhi! È bellissimo! È facile, io so che... È scopo la seconda che ci stai. Iiii! È dietro, è dietro, è dietro, è dietro, è dietro, è dietro. C'è la WP per terra. Esatto. Dove sta? Oh, ce l'hai fatta. Ecco... No! È lì, è lì, è lì, è lì. Eccolo! PURCHE! Dio! C'è così, lui ci ha affacciato qui, perché qua stava scritto... Io non l'avevo neanche visto affacciato prima, poi. Stava scritto così qua, c'è Leon! Ma è qualcuno in là! C'è il bot! Ma cosa? Green, 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 please! Porco di... Dai! Eh? Eh, lì! Eh, beh, me la fu unita. Vabbè... Ma non lo lascerò a passare, di bene qui. Ma manco tu scherzi, eh. Ma dai! Un colpo ogni morte di papa, però lo uccide. Ma sembrava rallentatore, sta sequenza. Biii! Dai! B, come la pagaccia di tua madre! Io poi... RASCIAO IN B! Biii! Mai, RASCIA! No! Vai, stai a me, stai a me, stai a me! Stai a me, stai a me! Mi la fu un'ottima prima! BOT DI MERDA! Mi stai per far morire! Eh, dove sto andando? Adesso è buono. E' un minuto a te. Sono ucciso nessuno! Eh, eh, sì! Ma dai! Eh, prendi! No! No, cosa ho fatto? No, suonino! Ma tipo tutti! Ah, aiuto! No, vabbè, che me ne vado. Io me ne vado, me ne vado. Gioca a nascondino, gioca. MUORIIII! Immortale, immortale! Ervivo! Immortale! Ci ha pochi ci ha... il cazzo posto delle mani spaga il prossimo land io vado in b e trena tutte trena fire fan e buon uso se no 77 in uno short non c'è più se si arrendono o guardatemi guardatemi ai no melafonine andato è morto l'altro melafonini 321 16 13 ce l'abbiamo fatta un graffito di un porco c'è spero che sia piaciuto questo video con verza che è re degli un fuori magari ci vediamo in altri video di conter strike con altri russi e senza altri melafonici però speriamo con i samsung è stato ci vediamo giusto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao